Un concerto d'organo ha chiuso il 40esimo anniversario del Calcit presso la Pieve di Arezzo, con l'organista Marco Rossi che ha all'attivo tanti concerti d'organo organizzati per beneficenze che dal 1989 frequenta la Pieve di Santa Maria. Da due anni è anche protagonista del tradizionale concerto annuale degli Sbandieratori di Arezzo. Quest'anno abbiamo fatto, come avete visto, tante iniziative per ricordare questi 40 anni, che secondo me era anche doveroso perché è bene ricordare l'impegno di tutti i cittadini in tutti questi anni. E aver chiuso qui, in questa chiesa, con un concerto d'organo che devo dire di nuovo che per me era nuovo, ma devo dire che appunto è stata la degna conclusione di un anno veramente importante. Mi sono tenuto un po' vario, spaziato dal barocco Bach, Handel fino al contemporaneo con l'ultimo pezzo di Ascenso, che è un arco melodico che avete potuto sentire abbastanza solenne e romantico nello stesso momento, perché lo strumento della Pieve si offre molto a vari tipi di stili ed epoche di musica organistica. e ho pensato di scegliere pezzi conosciuti, tipo il Requi di Mozart, l'area sulla quarta corda e l'adagio di Albino. Alla gente fa sempre piacere sentire certe melodie.